Ed è un'iniziativa che va decisamente controcorrente quella che vedrà impegnati alcuni studenti dell'Istituto Superiore Vallesseriana di Gazzaniga. I ragazzi si impegneranno infatti a distribuire pasti in stazione a Bergamo. Sentiamo cosa ci ha detto in merito Paolo Rossi, insegnante di religione dell'Istituto. Sì, è nato all'interno dell'educazione e della prevenzione delle dipendenze. Abbiamo anche chiesto ai ragazzi non solamente di ascoltare qualcuno che viene a loro parlare sulle dipendenze, droga, alcol, gioco, eccetera, ma anche di mettersi in gioco loro stessi. Abbiamo proposto questo intervento di volontariato, un intervento di volontariato che si svolgerà su base volontaria. Abbiamo chiesto ai ragazzi del secondo anno fondamentalmente che cosa? Di regalare un loro sabato sera, è anche simbolico la scelta del sabato sera, da qui a fine scuola e svolgere un servizio presso la Mesa dei Poveri alla stazione di Bergamo, quella coordinata dal Don Fausto Resmini della Caritas di Bergamo. Perché abbiamo scelto questa modalità? Perché loro dovrebbero investire un po' del loro tempo, non per vedere tante cose magari curiose, ma per investire un po' di tempo, il loro tempo, nel regalare a queste persone che hanno bisogno, nel aiutare il prossimo, nel cercare di capire che c'è un senso nello spendere gratuitamente per gli altri e anche poi per quando torneranno in classe, quando ci sarà un operatore che lavorerà con loro, loro sapranno di cosa si sta parlando quando si parla di stazione, si parla di precarietà, quando si parla di aiutare gli altri, quando si parla di dipendenze e riusciranno a riflettere con più incisività rispetto a dei discorsi che magari potrebbero solo sentire ma che vanno via.